buongiorno a tutti vedete questi bellissimi 5 beacons uno l'ho costruito io e gli altri gli schiavi volevo dire i miei fratelli x mi ha detto non basta uno che poi lagga il server perché bedrock no noi ne mettono 74 andiamo eh sì vabbè un altro buco dovrei chiuderli eh sì sì devo proprio chiuderli and the pearl and the pearl and the pearl ma beh vabbè cosa devo fare ecco cosa devo fare devo andare però già un po busto bellino tutto 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 vabbè andiamo ecco adesso andiamo nel nether perché dobbiamo vedere la porta in cui non ci era andato perché il portale fa schifo la porta lì dal portale quindi scendiamo giù e andiamo a destra cosa due cazzo della roba non c'è niente qui dietro sto muro di basalto stupido bioma delle mie palle madonna santissima dove vai lassù saliamo di qua e si sto bioma però non ci potevo spavolare su una fortezza invece il bioma deve essere questo bioma delle mie palle e volevo dire allora qui c'è aerobruns quindi qui c'è il porta alux entriamo sempre lentissimo sto cazzo di trasporto nelle dimensioni speriamo che non ci sia nessuno non c'è nessuno la porta eccola cazzo si apre sta porta cassa vuota perché l'ho già presa e andiamo laggato ok cazzo questa casa di villageri no non è di villageri beh andiamo a controllare sta cazzo di casa volevo dire oh c'è una finestra con ragnatele un pozzo delle sbarre di ferro del ferro e qualcuno dentro le sbarre di ferro allora che cazzo che parla sembra un robot un robot vabbè sta continuando vabbè apriamo la porta che cazzo è bedrock si ma intelligenza zero ok come salda acqua acqua perché ho tre secchi di cui uno vuoto cosa vuoi fare Pettico diassium si dovrebbe essere qui pettico di motivate pose e kaikki nel Suomo che ci è OUGHUCK che Credo che ha fatto questa acqua sali sali saliu sali 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 salito ok eh ok questo è questo Kiguous Kissa mà è un campfire, bellissimo, spacchiamo vicino, et voilà, zombie, e c'è ancora la voce, non so cosa sia sta casa, i zombie possono essere tanta roba, il virus zombie, il medico della peste, l'altro virus che ti trasforma in zombie, i vermiciattoli parassiti, però da questa voce che sento potrebbe essere il tizio della peste, una sedia, bello, sa parkour, parkour, chi è, è un medico della peste infatti, lì cosa ha la voce robotica delle mie, che mi succhia, che niente, si può uccidere, palesemente sì perché siamo su minecraft ma, arco, le frecce le lancio perché non vedo i pericoli i tiles, sto facendo un cazzo secondo me, spadata, 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 spiù, più, perché alzi le mani, sei nostalgico, è morto, prendiamo la freccia, oh, grazie, ok, perché io gioco la bedrock, sta cosa, e perché c'ho un mining fatica, ok, adesso spacco la sedia molto velocemente, perché questa parte video non ci doveva stare, io spacco una sedia indistruttibile, usciamo, riproviamo ad uscire, innanzitutto, così, merda, una barile, bellissimo, qua c'è dentro, gli SGP, infatti, il medico della peste con lo zombie, la casa dello 040 giapponese, e lo 040 branca giapponese, eccolo qui, sembrano dei gatti, che cazzo vuoi tu, ecco, sarà meglio, via, 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 figlio di puttana, che cazzo vuoi da me, non ti pago le tasse, anzi, vuole dire, sì, pago le tasse, e ti vuoi andare a fare un culo, manca un uovo, ce ne sono cinque dentro, anche tu sei nostalgico, che i so, sì, non ci può essere che i so, perché farebbe crashare il gioco da quanto è sovradimensionato, ok, i gatti sono spariti, eh, sì, volevi, va a pigliare il culo, gattino di mad, un bersaglio, devo bersagliarlo, ok, i gatti non ci sono, ho l'arco, sì, quindi spariamo alle palle, beh, sì, due volte, provo a scavare, eh, sono i gatti che danno mani in fatica, aspetta, ho fatto l'effetto di scavaggio adesso, non vuol dire che chissà sta facendo la gara del gioco, no? ok, ok, oh, c'è dell'acqua sopra casa, eh no, è lui, ma sto d'ontico, c'è la linea del boss, ok, lui in questo momento è alto, dovrebbe essere alto così, un piccolo calcolo, eh, un trentina di blocchi, perché la mia underpel non sta andando? eh, sì, sto facendo laggare il gioco, ok, la freccia è più, eh? è troppo grande che sta facendo laggare il server, dove l'altra freccia? eh, oh, l'ha colpito, è stato colpito dalle frecce, sta facendo letteralmente laggare il gioco il signor Kiso, guarda, è alto tipo, ehm, ah, ogni pixel, è un blocco, forse un po' di più, è alto tipo una trentina, volevo dire, una quarantina di blocchi, chissà cosa è troppo, piglia a fuoco, però in acqua lui, talk, parliamo allora, I need food, bellissimo, proviamo, ok, prende danno anche molto facilmente, non c'è armatura secondo me, uh, esperienza, 6 livelli, quasi 7, ok, questo è più pericoloso, perché solo spawnare fa crashare il gioco, se è meglio tornare a casa, eh sì, che cazzo sta succedendo qui, tornare a casa, vai, hmm, enderpearl, sì, voglio dire, eh, 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 porco d'ingy, eh, andiamo di là, eh, cos'è? una caverna, eh, madonna santissima, come esco adesso? Spero che di là ci sia qualcosa, e non un altro burrone, madonna, madonnina, eccomi qua, dove cazzo è il portale, è di là, la lana, un deserto, e quindi, beh, il portale, eccolo, ok, perché non mi sta ricottornando la vita? C'è stato cheso? ok, ritorniamo indietro, ma il problema è, molte volte sono andato con il, cosa è successo? Perché sono qui? Vabbè, è stato trasportato a casa, cos'è? dopo un po' i problemi, guardate che bel, abuso ed elizio ho costruito, vedete, comunque torniamo nella nostra abitazione, dove, eccolo, che minutaggio è? 12.39, casa di là? buon perfettissimo, questi buchi li devo chiudere, jump boost, quanto è buono, buono, apriamo, no, niente, ok, andiamo a mettere, questi stronzi a casa, allora, centro, destra, e sinistra, se passassi dalla porta, prendiamo questi due, che mi sono appena accorto, che posso metterli nell'altro, perché di qua c'è, il werewolf e gli altri dementi, allora qui, e poi facciamo sotto, quindi lui, poi il 49, 49 i zombie, 40 giapponesi, 40 giapponesi, ok, poi Kiso, dall'altro lato, queste porte, che si aprono anche con un pugno, non mi piacciono, e vabbè, questo è invece buonissimo, apriamo le porte, se passassi dalla porta almeno, ok, qui c'era, nessuno, lei, airbrain, una volta, quando ce l'ho tutti, tipo, apro il mondo, crea una coppia al mondo, e uso tutti gli ccp, un contro l'altro, comunque, 049, è un umanoide, con, queste sembianze, che pensa, che tutti siano ammalati, di peste, vuole curarli, creando, degli zombie, l'unno 040, della branca giapponese, è una casa, in una distesa deserta, che è di legno, di piccole dimensioni, in alcuni casi, non ci sono stati in nessun danno, ma in altri, in quel modo, di class D, hanno visto delle cose strane, tipo, quei gattini, di prima, che causano, allucinazione, e deterioramento, quando guardi, i gattini, ok, e questi gatti, non si possono vedere, occhio nudo, e vabbè, ti fanno impazzire, in pratica, interessante, e cos'era, sta laggata, san colpa dei raggi, ma palesemente, ma sta cassa, c'era anche, all'inizio del video, allora, la cassa, si bene, questo non è bello, fermi il resercer, fermi il guard, fermi il class D, questa non è cosa buona, comunque, adesso, farò parlare, in me del futuro, per sapere, se c'è la cassa, inizio del video, salve, sono in me del futuro, eh sì, la cassa, c'era anche inizio del video, si vede al minuto, 0, 0, 59, ovvero, 59 secondi, da inizio del video, vi saluto, e ciao,